le sorprese nostre, se riusciamo tanto ci abbiamo spazio all'indietro andate qui, guardate però, non andate indietro con i camberi, guardate dove c'è il piletto se possono caricare dal caparetto allora faccio a piedi, cortesemente se non sono sigle o personaggi o associazioni magari ecco se entrano con noi, perché noi siamo il favore, lì rappresentano noi dobbiamo riconoscere, noi dobbiamo vedere, perché se vediamo capiamo se non c'è senso, fa il panino con la porchetta, l'avete portato? da riccia, obbligatorio non lo volete bene? da ralli ah, stiamo mettendo le casse per farle sentire meglio intanto poi le casse oh, se mi rompete questo, diciamo altro noi, eh ci rimane solo il cartone arrotolato allora, mentre loro stanno preparando tutto io voglio ringraziarvi per esserci e perché siete dei curiosi, perché c'è la sorpresa oggi con noi ci saranno delle persone che addirittura vengono dall'estero perché c'è quel bisogno di riunioni di tornare ad essere un popolo civile che non mette avanti l'odio, perché chi semina vento raccoglie tempeste e chi semina odio raccoglierà guerra e noi questo non lo vogliamo perché ci sono i nostri figli bravo Marco, bravo